Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Metro per questo lungo weekend della Befana che, attenzione, inizia tutto sommato in maniera discreta ma si chiuderà con piogge diffuse domenica. Andiamo con ordine, questo venerdì qualche nuvola di passaggio ma come vedete non mancheranno anche delle parziali schierite e temperature per il momento anche miti. Entriamo più nel dettaglio, a Imperia sì qualche nuvola anche qua, comunque giornata discreta e le temperature guardate arriveranno a toccare anche i 13-14 gradi. Anche su Savone e provincia poco da segnalare, qualche nuvolamento si farà vedere anche da queste parti, correnti umide dal mare infatti portano qualche nuvola ma senza precipitazioni e temperature anche qua leggermente sopra le medie del periodo. Genova anche qui in situazione relativamente tranquilla ma magari con qualche nuvola in più, quantomeno nubi un pochino più compatte. Comunque clima anche qua tutto sommato piacevole per essere inizio gennaio. Tiguglio poco da segnalare anche da queste parti, sempre un po' di correnti umide dal mare portano degli annuvolamenti ma senza conseguenze tocchiamo i 13-14 gradi anche nello spezzino. Giornata discreta con qualche schiarita e temperature sopra la norma. giornata di sabato che vedrà sulla Liguria un aumento della nuvolosità e piano piano ma soprattutto nella seconda parte del giorno comincerà a cadere anche qualche goccia di pioggia. Per il momento pioggia comunque davvero di debole intensità però attenzione domenica giornata che vedrà un netto peggioramento del tempo tornano piogge diffuse anche sotto forma temporale quindi precipitazioni che localmente potrebbero essere piuttosto intense. Per tutti in Italia a questo punto sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.